Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Lente d'Ingrandimento. Riparte questa nuova stagione, poseremo la nostra lente su tanti argomenti spaziando dalla cronaca all'attualità alla politica. Speriamo che tutti gli argomenti che tratteremo sono di vostro interesse. Questa prima puntata la dedichiamo a Scampia, alla sua rinascita. Queste vele che nascono come progetto avveniristico e diventano invece simbolo di degrado. La rinascita è veramente difficile e complessa, ma parleremo anche di un'altra emergenza sociale senza fissa dimora. Come poterli supportare? Anche lì un lavoro complesso delle istituzioni, delle associazioni, del volontariato. Per parlarne in studio abbiamo l'assessore del Comune di Napoli, Luca Trapanese, assessore all'Uelfar. Buonasera, ben trovato assessore. Buonasera, grazie a lei. In studio con noi c'è Don Alessandro Gargiulo, parroco di una chiesa, proprio la chiesa delle vele a Scampia, che dal 2006 vive una realtà e cerca di aiutare le persone più bisognose. Buonasera e grazie per essere intervenuto nella nostra trasmissione. Noi apriamo questa puntata in maniera un po' particolare con una intervista in esclusiva al prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Ospite qui negli studi di lente di ingrandimento, purtroppo per impegni istituzionali non poteva essere qui con noi e con gli altri ospiti, però ha rilasciato questa intervista che seguiremo insieme e insieme ai nostri ospiti la commenteremo e analizzeremo quello che anche la prefettura sta mettendo in campo a supporto dei cittadini. Grazie al prefetto per essere qui all'ente di ingrandimento in questa puntata in cui parliamo di Scampia, ma anche di disagio sociale, di senza fissa dimora e di come anche proteggere gli immigrati che vengono nella nostra bellissima città. Le chiedo in prima battuta quanto è stato difficile gestire l'emergenza dopo l'episodio tragico del 22 luglio a Scampia. Qual è stato il momento più difficile? Grazie a voi per questa opportunità di fornire informazioni istituzionali. Il momento più difficile a Scampia è stato quella notte quando siamo arrivati un po' col sindaco sul posto e vedere questa tragedia e soprattutto la impossibilità di fare qualcosa nell'immediatezza, ma soprattutto avere piena consapevolezza e cognizione degli sforzi che si sarebbero dovuti affrontare di lì a qualche ora per mettere in sicurezza 800 persone, perché si è trattato di mettere in sicurezza 800 persone. E questo è stato possibile perché la convergenza degli obiettivi che lo Stato, il Comune, la Regione si sono dati in quel momento sono state convergenze immediate. E nell'immediatezza abbiamo avuto sempre, come dire, un orizzonte davanti a noi che era quello proprio di garantire alle famiglie di avere un alloggio dignitoso alternativo. Ci siamo riusciti perché il Governo ha dato una grande opportunità con il contributo di autonoma sistemazione. Il Governo Meloni, il Ministro Musumeci, il Ministro Piantedosi hanno immediatamente colto la difficoltà delle problematiche che di lì a poco si sarebbero evolute, ma anche la Regione con la sua competenza in materia sanitaria, protezione civile regionale. Ovviamente vanno ringraziati in quel momento davvero col cuore i Vigili del Fuoco, le forze di polizia, tutte, il terzo settore, le parrocchie che davvero sono state al nostro fianco, la protezione civile regionale. Cioè c'è stato un dispositivo da una parte di sicurezza, ma dall'altra parte sociale che è stato anch'esso convergente su determinati obiettivi. Certo, c'è stata una macchina di solidarietà enorme che è stata anche difficile gestire quella perché poi noi sappiamo che i napoletani hanno un cuore grande e quindi in tanti hanno voluto partecipare per portare la loro solidarietà. Quanto è stato importante il raccordo della Prefettura per convincere ai cittadini che in quella circostanza le istituzioni erano credibili ed erano da seguire le loro direttive? Noi abbiamo avuto una serie di colloqui insieme al Sindaco ed alcuni rappresentanti, ma anche con le parrocchie del territorio, non tanto per convincere le persone che mi sono apparse sin dal primo momento abbastanza consapevoli del pericolo che potevano ancora correre restando nella vela. Noi non abbiamo convinto, noi abbiamo prospettato un obiettivo che a breve loro possono, ovviamente compatibilmente con i tempi, avere un alloggio alternativo dignitoso. Il Sindaco è stato, come dire, non convincente, ma ha posto una questione, questa questione è stata esaminata, tavoli in Prefettura, tavoli in Comune, e tutto ciò ha consentito di superare l'emergenza. Questo non significa che il trasferimento di queste famiglie dalla vela a determinati altri alloggi sia stato indolore, perché è vero che c'è stato il contributo di autonoma sistemazione e che è stato un po' il volano di sviluppo di questa azione amministrativa. Però è anche vero che ci sono famiglie ancora che hanno difficoltà. Io immagino famiglie con disabilità, con vulnerabilità, le povertà emergenti. Queste famiglie hanno avuto qualche difficoltà e vengono accompagnate anche da noi, dalla parrocchia, dal Comune. È una sfida ancora non completamente vinta, ma noi abbiamo consapevolezza piena che vanno seguite queste azioni, perché non c'è altra differenza. Peraltro anche le due vele che saranno progressivamente destinatari... La gialla e la rossa. La gialla e la rossa, che saranno progressivamente destinatari e di ordinanza. Questo significa che anche per queste persone dobbiamo usare uno stesso meccanismo, uno stesso criterio, ma tenendo sempre presente quello che io dico sempre, che noi non abbiamo di fronte dei numeri, noi abbiamo di fronte delle persone. E ogni famiglia ha una sua peculiarità, una sua specificità, spesso anche una sua criticità. E allora noi abbiamo sempre privilegiato, io ho cercato sempre di privilegiare, partendo proprio dalle famiglie che all'interno avessero il portatore di handicap, il vulnerabile e quant'altro. Questo credo che sia un'azione che si snoda anche nel sentimento popolare della migliore tradizione napoletana. Cioè che quella della generosità, della vicinanza, dell'affetto, del fatto che dobbiamo camminare insieme, tant'è che quello che diceva lei, cioè quella solidarietà vasta che nell'immediatezza si è manifestata, ha avuto bisogno da parte di Don Alessandro Gargiulo, la parrocchia, ma altri altri parroci, di destinare tutto ciò che stava per arrivare. E tra l'altro io ho notato che c'è stato un grande senso di responsabilità. Perché è vero che alcune famiglie nell'immediatezza sono andate a dormire presso l'università, ma è anche vero che quando hanno trovato nelle istituzioni le risposte alle loro problematiche, che automaticamente e volontariamente sono uscite, senza creare alcun problema. Questo significa che quando vi è una grande azione da parte delle istituzioni governative locali e regionali e comunali, le municipalità, che qui a Napoli sono municipalità sempre abbastanza attente perché più vicine al territorio, che con il sindaco si raccordano con la prefettura, noi in quel momento troviamo come delle risposte esaustive ed è quello che è successo. Ma ripeto, la sfida non è vinta e bisogna proseguire su questo percorso. Certo, il cammino è ancora lungo. All'interno delle vele di Scampia c'erano anche delle persone però abusive. Anche per loro, chiaramente, anche a loro bisogna offrire una qualche possibilità. Allora, il Comune aveva fatto già un censimento pochi mesi prima, quindi aveva già una fotografia di tutta la situazione complessiva dei nuclei familiari e anche degli eventuali abusivi. Queste famiglie hanno avuto un percorso che non è stato il percorso principale, ma un percorso di accompagnamento da parte dei servizi sociali del Comune. Certamente il fatto che fosse abusivo non significa che devono stare alla ghiaccio. E allora il Comune si è fatto carico attraverso i servizi sociali di creare condizioni di un accompagnamento che è avvenuto. Per quanto riguarda i tempi per lo sgombero o delle altre vele, perché chiaramente si deve badare alla sicurezza dei cittadini. Stiamo facendo una serie di riunioni. Noi dobbiamo creare meno disagio possibile. Però tutto questo va coniugato con la sicurezza. Perché se le persone in quelle vele non possono abitare, non devono abitare. Perché la morte, qui io davvero sono vicino alle famiglie per questo lutto che hanno subito, per queste persone che sono morte, devono essere monito per ciò che noi dobbiamo fare nel futuro, per ciò che il Comune deve fare nel futuro. Dobbiamo assolutamente coniugare attività legata a trovare la soluzione, ma anche avere come priorità assoluta la legalità e la sicurezza. Io credo che siano elementi imprescindibili perché le vele sono anche il simbolo di un degrado che si era manifestato negli anni e questo è un momento, forse uno snodo della storia locale in cui possiamo creare, provocare e ricercare la soluzione più consona alle esigenze di questi cittadini. Certo, è paradossale le vele come degrado ma anche le vele come riscatto perché la riconversione di una vela in un'università ha significato il riscatto sociale. Io ho detto in qualche intervista precedente, quando accade un omicidio, un furto, una rapina in quel territorio, le vele, che tutto ciò non può osfuscare la primavera di Scampia. Scampia, che io ho frequentato in queste settimane, resta un esempio in cui il sociale è emerso in maniera determinante. Le tante associazioni, il terzo settore, i movimenti culturali, fanno sì che questa popolazione possa crescere. La gente non sa quanti universitari bravissimi che vivono a Scampia, quanti professionisti di livello internazionale che sono usciti da Scampia. Scampia è soprattutto questo. E allora noi dobbiamo certamente affrontare le tante criticità, il degrado, ma dobbiamo anche, non esaltare, ma almeno avere una cognizione che lì, oltre al degrado, oltre alle situazioni di criticità, ci sono persone di grande elevatura culturale, dei geni, dei professionisti, degli universitari, che possono davvero far creare a Scampia una primavera permanente. Posso approfittare della sua presenza qui all'ente di ingrandimento per chiederle un appello ai medici di medicina generale. Noi sappiamo che Scampia purtroppo vive un'emergenza, che è la mancanza di medici di base perché non hanno accettato l'incarico in quella zona. Per cui c'è necessità di sensibilizzare anche questi medici. Queste persone hanno bisogno di assistenza, dobbiamo essere tutti uguali. L'autorità sanitaria sta facendo di tutto per superare questo gap, ma l'appello che faccio ai medici, che come dicevo prima, conviene, è bello lavorare a Scampia, perché Scampia oggi, a mio avviso, rappresenta una nuova primavera. Cogliamo l'occasione perché la professionalità possa coniugarsi con un orizzonte pieno di luce. Io a Scampia vedo luce, tanta luce, vedo tante criticità, però se non vediamo che la luce che c'è probabilmente non riusciamo nemmeno a risolvere i problemi di criticità che Scampia ha. Perfetto, un altro problema che lei ha molto attenzionato è senza fissa dimora, che costituiscono un problema di tutte le grandi città, e Napoli chiaramente tra queste. Qual è il modo di affrontare la Prefettura inutile all'istituzione? Allora io ho trovato una situazione davvero, per alcuni versi, anche incomiabile. Se noi guardiamo ai tanti dormitori che nel tempo si sono allargati, alle tante associazioni, ai tanti religiosi e religiose, ma anche a tanto personale laico che sta agendo per convincere spesso i senza dimora ad abbandonare il porticato, ad abbandonare la strada, alle tante attività che fa il servizio sanitario. Immaginate soltanto che noi in Prefettura abbiamo fatto una serie di riunioni con il 118, ringrazio a tal proposito il dottor Verdoliva e il dottor Galano, perché si sono assunti la responsabilità di guardare a queste persone con un occhio diverso e tentare di essere il più vicino possibile, per esempio di notte, perché possano dare una risposta di carattere sanitario nell'immediatezza, perché il discrimine è il crinale tra una persona che vive il disagio di senza tetto, che è sociale, da quello sanitario va colto nell'immediatezza. Allora sia il terzo settore, sia i volontari, sia il servizio sanitario devono avere questa percezione e le tante riunioni che ho ottenuto in Prefettura hanno fornito queste risposte. È un tema attualmente ancora molto sentito, dobbiamo fare di più. Allora in questo senso l'assessore trapanese del Comune di Napoli si sta attivando in questo, come anche il sindaco sensibile, il professor Manfredi a queste tematiche, e soprattutto il terzo settore, i religiosi preti cosiddetti di strada. Io immagino Don Enzo Cozzolino, i tanti altri sacerdoti, che di notte sono lì presenti nei vari punti focali della città. Ecco, noi dobbiamo mettere a fattor comune tutte queste energie. Se riusciamo a mettere a fattor comune tutte queste energie, probabilmente potremmo dire che abbiamo fatto grandi passi avanti per la soluzione di questo problema. Che resta però un tema presente nelle grandi città perché la persona senza fissa dimora spesso è una scelta di vita. E allora dobbiamo essere attenti anche all'esercizio di libertà di queste persone. Però le istituzioni hanno il diritto, dovere, di essere vicine a queste persone. Perfetto, noi la ringraziamo, la salutiamo, naturalmente grazie per quello che fa per questa bellissima ma complessa città come Napoli. È una città bellissima, complessa, ma io dico straordinaria perché è una città che corre da 2500 anni. Ed è una città che non è stata mai ciclica, storicamente. Ha sempre guardato avanti, si è sempre rialzata e oggi sta vivendo un momento magico se pensiamo all'attrazione turistica che ha Napoli, ai tanti eventi internazionali. Napoli oggi respira un mondo che è fatto di tante situazioni parallele, di criticità, però dobbiamo guardare sempre con speranza perché la storia possa insegnarci, che ci insegna che Napoli a 2500 anni diventa davvero, come ho detto già in una presente intervista, la cartolina della bellezza della città. Napoli è la cartolina della bellezza della città perché sono convinto che noi attorno a questa cartolina possiamo programmare, pianificare con grande forza il futuro migliore. La prefettura non ha una competenza specifica in tutto ciò, però può aiutare gli enti competenti ad accelerare determinate progettualità, ad accelerare e affrettare i tempi su determinati programmi. Immaginiamo la regione Campania, quanti sforzi sta facendo, ma come anche il comune e la città metropolitana di Napoli. Persone impegnate su questo fronte che credo anche i dati ultimi che il Sole 24 Ore ha rassegnato sulla sicurezza a Napoli ci dicono che siamo sulla buona strada. Certo, siamo ormai dodicesimi, non siamo più tereprimi. Però anche quella è una sfida quotidiana. I numeri sono un conto e la percezione è altro. Noi dobbiamo essere vicini alla gente anche per far comprendere che la percezione della sicurezza è una grande sfida e dobbiamo lavorare anche su questo fronte. Grazie Prefetto, arrivederci. Grazie a voi tutti, grazie a voi. Ritorniamo in studio con i nostri ospiti. Ringraziamo nuovamente il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che in esclusiva ha rilasciato questa lunga e articolata intervista. Vorrei chiedere immediatamente ai miei ospiti, cominciando dall'assessore al welfare Luca Trapanese, un Prefetto così attivo. È fondamentale anche per voi che amministrate problemi così complessi? Assolutamente sì. Io ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per questa bellissima intervista e il riconoscimento di un'attività di rete importantissima. Quindi la sua presenza, che ci unisce ad un tavolo e che ci fa essere comunque partecipi a tutti i problemi e coordina un po' le varie istituzioni, sicuramente è un vantaggio ed è un'esperienza di grande risultato. Lo abbiamo visto sia sulle vele, ma appunto il tema di Essenza di Mora, che è un tema che non finirà mai, come lui lo ha spiegato benissimo. Essere coordinati o sapere che c'è una figura sopra le parti che ci aiuta a trovare delle strategie è importante. In questo caso lui ha voluto che il Comune di Napoli fosse anche il coordinatore anche del terzo settore, delle reti di volontariato, faremo una prima riunione il 7 ottobre. Questo significa un lavoro enorme, anche di... Cioè una figura di riferimento è una figura di riferimento importante. Tutte queste energie che non vengono sprecate, ma che vengono coordinate. Coordinate. Don Alessandro Gargiulo, parroco dal 2006 di Maria Santissima del Buon Rimedio, che è la parrocchia delle vele a Scampia. Anche per voi che operate in maniera veramente difficile è importante avere una persona come il Prefetto che coordina e tiene presente anche il vostro lavoro? Assolutamente sì. Diciamo abbiamo visto il volto di istituzioni che si sono approssimate, si sono avvicinate. Mi colpiva moltissimo nell'ascolto dell'intervista che nel parlare delle situazioni anche legate a delle famiglie particolari, in realtà credo che tutti quanti noi avessimo davanti i volti di quelle famiglie. Questo è quello che è accaduto in questa situazione. Poi, al di là delle criticità, delle fatiche, anche nella risoluzione dei problemi, non si parla diciamo tra noi non conoscendo le persone. Assolutamente. Le persone, lui ha tenuto a sottolineare, non sono numeri, ma sono persone. Adesso vediamo insieme il servizio curato da Claudia Tagliani proprio che ricostruisce la vicenda delle vele e torniamo poi in studio a commentare e cercare di capire come stanno queste famiglie che come giustamente diceva donna Alessandro hanno un nome, un cognome, un volto, sono delle persone come noi. Era la sera del 22 luglio quando è avvenuto il cedimento di un ballatoio nella vela celeste di Scampia. Il bilancio è di tre vittime, 13 feriti, tra cui bambini e 800 sfollati. Una tragedia che consolida ancora una volta uno stereotipo. Le vele sono il simbolo del degrado di Scampia. Il complesso residenziale originariamente composto da sette edifici fu realizzato tra il 1962 e il 1975 sul progetto dell'architetto Franz di Salvo il quale ispirandosi allo stile di vita dei quartieri del centro di Napoli e alla tipica abitazione del Basso aveva scelto di ridurre la metratura degli appartamenti a vantaggio di spazi comuni di socialità come i lunghi ballatoi. Ma il progetto non sortì gli effetti sperati. Il sovraffollamento e l'abbandono delle istituzioni sono state terreno fertile per la Camorra con le sue piazze di spaccio e le guerre tra clan proprio come raccontato nella fiction Gomorra. Ma i cittadini per bene di Scampia hanno detto no a questa narrazione e si sono riuniti in comitato per la rinascita di Scampia. Con il progetto Restart il comune di Napoli ha promosso la riqualificazione del quartiere dall'abbattimento di alcune delle vele alla rinascita proprio su quelle macerie di un nuovo complesso universitario della Federico II per le professioni sanitarie. Gli ultimi avvenimenti di cronaca hanno riacceso i riflettori sul destino delle vele e dei loro residenti. Nonostante ciò si spera che le scadenze annunciate non vengano disattese. Allora prima di chiedere all'assessore Trapanese se queste scadenze verranno rispettate voglio chiedere a Don Alessandro abbiamo detto persone non numeri chi sono gli abitanti delle vele? In genere noi quando parliamo degli abitanti delle vele è come se parlassimo di persone diverse da noi. Assolutamente sì ed è questa una delle grandi questioni anche che stanno sul piatto diciamo. Sono persone assolutamente normali che vivono una vita a volte segnata dalla difficoltà e dalla precarietà dell'alloggio da speranze anche disilluse da situazioni in cui anche un lavoro precario a volte ha messo in difficoltà la questione della rioccupazione costante delle vele legata anche alle fasi dell'economia per esempio ricordo la crisi dell'edilizia che portò al licenziamento di tanti bravissimi operai che poi alla fine hanno cercato abitazione all'interno della struttura delle vele ma sono persone sono lavoratori che mandano i figli a scuola una delle questioni critiche che queste famiglie portano sempre oggi rispetto allo spostamento da Scampia è legato per esempio alla questione della scuola per i propri figli dell'attenzione per i figli disabili presso i centri che se ne sono presi cura i cambiamenti di cui hanno maggiore preoccupazione sono questi qui quelli di cui si preoccupa ogni bravo papà e ogni brava mamma di famiglia Allora assessore dopo il 22 luglio come diceva Claudio nel servizio si sono riaccesi riflettori sulla problema riqualificazione delle vele queste persone che sono state sfollate per motivi di sicurezza devono trovare un alloggio qualcuno l'ha trovato qualcuno ancora lo sta cercando il contributo di autonoma sistemazione è sembrata un po' la chiave che ha aperto anche le porte ad un passaggio non troppo doloroso al momento qual è la situazione? Allora di cittadini che abitavano la vela celeste 233 nuclei familiari 800 persone tutti sono stati censiti e hanno già ottenuto il contributo hanno avuto in un'unica tranche le prime tre mensilità e poi avranno in maniera ordinata le successive mensilità devo dire che è stato un lavoro enorme congiunto tra politiche abitative e welfare dove io ero lì quasi un'ora dopo l'incidente ma c'erano tutti i dirigenti welfare i servizi sociali la protezione civile proprio perché è partita questa macchina di recupero immediato rispetto alle fragilità e bisogni dei cittadini come diceva su eccellenza il prefetto in questo momento tutti hanno avuto il contributo della vela celeste sicuramente ci sono problemi rispetto alla possibilità di usare questo contributo perché non tutti riescono a trovare privati che vogliono fittare le abitazioni è un contributo anche importante perché ovviamente in base ai componenti del nucleo familiare ed è in base anche alle fragilità all'interno del nucleo familiare per esempio ci sono dei bonus in più mensili per chi ha un disabile in famiglia 200 euro in più e per chi ha un ultra 65enne in famiglia altri 200 euro che sono cumulabili quindi alcune famiglie prendono anche 1200 euro al mese fino al raggiungimento dell'obiettivo finale che resta scampia noi siamo già partiti con i lavori preliminari inizieremo dai primi 160 appartamenti fino ad arrivare a 400 perché dopo l'abbattimento si devono costruire delle case nuove per queste persone che ci abitano esatto noi stiamo già costruendo le prime 160 nei suoli che sono già liberi contemporaneamente verranno abbattute le due vele gialla e rossa e si partirà poi con le successive abitazioni in tutto sono 433 immobili già dichiaratamente censiti le famiglie che hanno diritto a quegli immobili nel 2023 quindi per noi il lavoro è stato anche semplice i censiti hanno già diritto all'immobile e dovremmo finire assolutamente entro la fine del 2026 quindi noi non possiamo sforare questo tempo massimo certo rimarrà in piedi soltanto la vela celeste teatro di quella tremenda tragedia che viene riqualificata in un centro per servizi sociali viene riqualificata in un centro servizi sociali e culturali c'è tutto un progetto dove diventerà un polo per le famiglie vari servizi per il territorio ma anche un ricordo di quello che è stato Scampia e le vele di Scampia da un punto di vista culturale dove ci saranno mostre spazi dedicati al terzo settore quindi spazi aggregativi che sono necessari in un ambiente così complesso Don Alessandro queste famiglie di cui parlava l'assessore trapanese hanno effettivamente trovato lei ha il polso della situazione perché lei li vede frequentemente hanno trovato insomma un alloggio dignitoso queste famiglie allora molti hanno trovato una sistemazione nelle reti familiari questo è anche stato il vantaggio di un contributo di autonoma sistemazione perché ha dato la possibilità di una certa libertà nella gestione del denaro e di contribuzione anche alla vita delle famiglie che magari hanno ospitato poi molti stanno trovando soprattutto della vela celeste perché hanno incominciato praticamente da subito a cercare abitazione stanno trovando perché dicevo hanno anche una condizione nella quale il loro lavoro le buste paga eccetera rassicurano anche coloro che hanno delle abitazioni moltissime difficoltà le stanno trovando le famiglie molte famiglie perché c'è una resistenza un po' dovuta a una sorta anche di incapacità a volte di superare delle rassicurazioni burocratiche che vengono messe in campo dalle agenzie e dagli stessi proprietari è un po' perché purtroppo gli abitanti di Scampia portano su di sé un segno che è ingiusto e che a volte li vede addirittura rifiutati oggi stamattina ho parlato con una signora bravissima mamma col marito e con i figli che mi diceva di questa difficoltà di vedersi la porta in faccia a volte il numero dei figli si mette davanti l'esistenza c'è una persona che per esempio aspetta un bambino non riesce a trovare un'abitazione e sono queste situazioni abbastanza amare che ci dicono anche di quanto forse abbiamo sbagliato nel tempo a raccontare un territorio che non è assolutamente così a cominciare dalla narrazione di Gomorra che chiaramente ha esaltato il degrado e non la parte bella di questo territorio assolutamente noi con i servizi sociali che sono stati sul territorio e che ancora ora sono sul territorio al di là di quelli municipali ma tutti i servizi sociali della città di Napoli hanno lavorato e stanno lavorando per scampia in maniera proprio omogenea le famiglie sono molto collaborative le famiglie sono state presenti non mai di ostacolo hanno seguito in maniera ordinata tutte le nostre indicazioni non sono mai state di ostacolo rispetto al processo sia di sgombro immaginate che cosa significa all'improvviso lasciare la propria casa le proprie cose all'interno di una casa non c'è stato mai un momento di 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 tensione è chiaro di paura di preoccupazione di ansia ma questo è stato gestito anche grazie agli psicologi agli educatori che sono stati sul territorio presenti ma di grande collaborazione io per questo in questo momento ho deciso sarà deliberata in questa settimana di fare una delibera proprio come politica proprio a vantaggio e a sostegno delle famiglie di Scampia dove io chiederò ai privati di mettere a disposizione gli immobili a pagamento non solo a singolo privato ma anche la diocesi o anche altre fondazioni ovviamente la diocesi ci ha già risposto ci ha già dato quindi come comune darete un contributo noi già stiamo dando il contributo noi come comune vogliamo fare una mappatura vogliamo vedere chi magari ha voglia di mettere a disposizione da un punto di vista privato con un fitto la propria abitazione magari non sa come fare oppure non sa dove andare quindi fare proprio un censimento un raccordo tra comune e privato quasi come ho fatto come abbiamo fatto nell'emergenza ucraina dove feci quell'appello uscirono tantissime disponibilità dalle fondazioni ai privati alla Caritas per appartamenti per le famiglie ucranie durante l'emergenza della guerra in modo che il proprietario in qualche modo si senta più garantito il proprietario si sente più garantito sa che quella famiglia proviene da Scampie che ha un contributo e che quindi può pagare sa che questo contributo viene dato fino a quando quella famiglia non entra nella casa definitiva e sa che c'è una regia che non è solo quella del comune ma appunto di tante istituzioni è importante ciò che lei ha detto praticamente questo contributo non è a tempo perché noi sappiamo che insomma purtroppo i tempi sono biblici e non sempre vengono rispettati quindi queste famiglie lei garantisce che non rimarranno senza contributo finché non entreranno nell'alloggio assolutamente sì perché noi non possiamo sforare il 2026 perché sono i fondi del PNR esattamente non solo ma è quello che il nostro sindaco magistralmente ha portato al governo cioè noi siamo tornati da Roma con dei fondi a sostegno con la promessa è una promessa perentoria che per il 2026 ci sono tutte le 433 case per le famiglie censite delle vele gialle, rosse e celeste di Scampia quindi questo è una promessa politica importante che abbiamo fatto e che dobbiamo mantenere altrimenti e noi la attenzioneremo molto perché le promesse politiche mi auguro che vengano rispettate perché questo è un caso molto delicato tra l'altro lei ha detto una cosa importante tutte le alloggi saranno completati gli abitanti delle vele si sono molto uniti hanno fatto molto rete hanno detto non vogliamo provvedimenti per noi della vela celeste perché c'è stata un'emergenza rispetto agli abitanti della vela gialla e rossa il provvedimento deve essere uguale per tutti quindi insomma questo è un elemento fondamentale perché in un momento di disagio ognuno poteva pensare insomma vabbè bene che lo danno a noi poi vedremo per gli altri don Alessandro ma io credo che in questa esperienza noi traiamo fuori la drammatica situazione che nasce da una da un dolore perché tutta la città per le famiglie che hanno avuto questi lutti però noi cogliamo proprio una sorta di ribaltamento del paradigma di interpretazione della vita delle nostre periferie e soprattutto di Scampia prima di tutto mi va di ricordare il momento nel quale è stata sgombrata l'università un momento nel quale non c'è stato nessun tipo di opposizione nessun tipo di ostilità anzi mi permetto di hanno pulito l'università prima di uscire quindi insomma parliamo di persone per bene cioè io voglio dire hanno lasciato l'università in una condizione non hanno distrutto nulla l'hanno mantenuta durante quelle giornate si erano organizzati per chi puliva chi si occupava dei pasti chi si occupava delle toilette chi deve raccogliere i beni di necessità un'organizzazione interna il comitato velo ovviamente altri comitati hanno lavorato ma loro hanno lasciato l'università e non abbiamo sentito né di distruzioni atti vandalici assolutamente anzi questo è il primo aspetto secondo me che va sottolineato cioè lo sgombero di un edificio con 800 persone avrebbe potuto provocare in un ambiente fortemente indicato come un ambiente di criticità sociale situazioni anche di rivolta sociale eccetera non ci sono problemi seri di ordine pubblica la sera dello sfollamento dell'università alcune famiglie che non avevano proprio dove andare sono uscite dall'università e sono andate a mettersi sotto i portici di fronte ci hanno avvisato di questa cosa siamo andati a trovarli abbiamo trovato delle sistemazioni per quella circostanza ma comunque questo dice anche l'atteggiamento col quale si è vissuto con grande consapevolezza tutta la situazione e di grande rete e di aiuto e di apertura alle necessità di tutti perché qual è stato il problema che loro uscendo avevano già avuto il contributo in tasca cioè già avevano i soldi sul conto corrente quindi il contributo è stato immediato subito immediato nell'arco di 24 ore immediatissimo il problema è che non avevano gli strumenti per avere una casa ed era agosto ed era agosto fine agosto quello che ci tenevo anche a sottolineare che il sindaco quando è andato a Roma ha sempre portato anche la vela gialla e la vela rossa ma è solo la vela celeste perché noi sapevamo che da questa tragedia è chiaro che si tirava dietro le altre due vele che erano addirittura le peggiori rispetto alla celeste infatti noi oggi già siamo a 125 famiglie che hanno fatto la domanda per il contributo una parte vela rossa e una parte vela celeste perché ogni giorno i servizi sociali incontrano le famiglie perché già stiamo preventivamente creando tutti i presupposti per cui non devono essere sgombrate ma hanno un tempo per poter uscire da quelle case in una maniera molto più leggera diciamo molto più organizzata Don Alessandro noi abbiamo detto come Claudia ci ha ricordato nel servizio abbiamo avuto il 22 luglio tre vittime e sette feriti tra questi feriti due bambini in maniera particolarmente grave ci vuole rassicurare sulle condizioni dei feriti perché sicuramente lei è più a conoscenza di noi è stato qualcosa di veramente sorprendente noi sono stati a trovare insieme al mio viceparro che è stato di aiuto sostanziale Don Federico poi il vescovo Don Mimmo siamo stati a trovare le famiglie proprio in ospedale abbiamo visitato delle situazioni che sembravano davvero assolutamente drammatiche e addirittura ricordo diciamo la videochiamata a una settimana che mi è stata fatta fare da uno di questi ragazzi perché poi li conoscevo da quando sono venuti a Scampia quasi 18 anni fa e praticamente si era ripreso in una maniera incredibile hanno un grosso cammino di ripresa lungo cammino di ripresa c'è qualcuno che ha ancora delle serie difficoltà per cui però davvero sembra che abbiamo avuto dei segni di ripresa straordinari non ce le aspettavamo e questo sicuramente ci fa piacere perché chiaramente insomma hanno vissuto un dramma e devono essere adeguatamente curati e supportati noi ritorneremo naturalmente a parlare di Scampia delle vele e controlleremo e vigileremo affinché le rate che anche l'assessore Trapanese ci ha indicato come diciamo parola a fini a questo lungo travaglio delle vele adesso parliamo anche se brevemente di un'altra emergenza che come abbiamo detto anche al prefetto che è quella senza fissa dimora un'emergenza che riguarda tutte le grandi città Napoli ovviamente e tra queste è un'emergenza che diventa sempre più critica anche perché ha una gestione complessa cosa state facendo concretamente per queste persone abbiamo anche assistito ad episodi drammatici come quello della villa comunale certo allora innanzitutto diamo dei numeri perché sono importanti tanto da far capire ai cittadini la situazione quanto è collassata a livello europeo e poi quindi le grandi città secondo Caritas e Istat noi abbiamo 6.000 persone senza dimora 6.000 che non sono solo quelli che dormono per strada ma anche persone che vivono in macchina persone che vivono a casa di amici o parenti perché hanno perso una casa perché hanno perso il lavoro perché si sono separati quindi noi che cosa abbiamo fatto innanzitutto abbiamo aumentato i posti letto nei dormitori anche se l'ente terzo settore non ha risposto come avremmo immaginato perché c'è un problema di luoghi c'è un problema di educatori c'è un problema di spazi proprio e quindi abbiamo aumentato i 250 letti posti ma adesso ne abbiamo quasi 500 sul territorio cittadino io ho recuperato dei fondi che non erano stati utilizzati per aprire 9 housing sociali perché qual è il problema di Napoli Napoli ha sempre basato l'accoglienza sul dormitorio non è quella ormai la risposta quella la abbiamo e ce la dobbiamo tenere perché è la prima risposta ma le housing a micro gruppi di 4 di 7 massimo di 10 sono le risposte ormai europee soprattutto abitazioni diffuse in tutta la città macchia di leopardo che prendono tutti i quartieri anche nei condomini noi abbiamo presi bene i confiscati bene dell'amministrazione ne partiranno i primi 9 nei prossimi mesi già abbiamo erogato il bando stiamo chiudendo diciamo i vincitori abbiamo aumentato l'unità di strada da 2 sono arrivati a 5 con una centrale operativa abbiamo stretto fortissimi rapporti di collaborazione tra Caritas Diocesi ASL come diceva il prefetto Croce Rossa e con gli enti del terzo settore che all'inizio erano un po' stili adesso hanno capito che l'amministrazione è dalla loro parte che dobbiamo lavorare tutti insieme quindi stiamo lavorando molto bene è chiaro che è un fenomeno importante io quello che vorrei chiarire noi abbiamo anche con l'assessore Lieto fatto una convenzione con l'università di Torino che si occupa proprio sull'abitare le abitazioni precarie le persone che vivono in strada la visione europea e quindi la visione dei paesi delle grandi città non è quella di togliere le persone dalla strada non ce la faremo mai non ce la dobbiamo dire altrimenti andiamo contro le possibilità dei comuni la visione è di accompagnare la persona sulla strada ad avere una serie di servizi collaterali a cercare di emergere da quel degrado da quella scelta di cui parlava il prefetto e a ritrovare una propria strada quindi tanti servizi concludo per esempio tutto il PNRR missione 5 sui senza dimora l'apertura di 4 nuove strutture che sono strutture diurne che sono molto più importanti della colleghienza notturna perché tu nel diurno hai gli psicologi gli avvocati i servizi sociali vengono sostenuti con una rete e quindi vengono recuperati come fare il documento come avere il passaporto come avere l'assegno di inclusione come trovare una casa la apriremo a fuori grotta dove manca zona museo zona garibaldi e ampliamo quella che c'è il nostro Tanucci a piazza Carlo III e quindi insomma si va avanti per questa strada chiaramente la situazione è compressa qui all'ente di ingrandimento ci piace sempre portare anche e mettere in evidenza quelle che sono delle belle iniziative tra queste Gianluca Iavarone ne ha trovata una secondo me molto bella interessante medici di strada che è un'associazione no profit che si fa carico proprio di accompagnare in un percorso difficile senza fissa dimora Gianluca Iavarone siamo nel rione Traiano sede di quello che è uno dei punti di riferimento del volontariato e della solidarietà in città ovvero l'associazione medici di strada che da anni ormai con questo camper va in giro per la città a portare assistenza sanitaria ma non solo ai più bisognosi e ai più dimenticati ovvero i senza tetto non c'è però soltanto questo questo è il camper diciamo appunto medicalizzato dove c'è la disponibilità di farmaci c'è la disponibilità di poter fare la possibilità di fare medicazioni e quindi qua aggiriamo appunto dando assistenza a queste persone in difficoltà da un po' di tempo da qualche anno facciamo anche distribuzioni di abbigliamento coperte che molto spesso diciamo è il bene di prima necessità per queste persone chiaramente e diciamo affianchiamo queste persone nei loro bisogni diamo anche la possibilità di avere delle cure odontoiatriche grazie ad amici che diciamo collaborano specialisti odontoiatri che collaborano con noi perché è importante sapere questo che molto spesso soprattutto per i giovani avere una bocca a posto consente talora a questi giovani di trovare la possibilità di trovare un lavoro e quindi anche un piccolo reinserimento nella realtà sociale dal 2016 oltre all'attività sul camper abbiamo anche questo ambulatorio che diciamo grazie alla solidarietà e alla disponibilità di molti medici specialisti ospedalieri in attività o in pensione aperto al rione Traiano e adesso anche diciamo alla città di Napoli e a tutte le persone in difficoltà un ambulatorio polispecialistico medico solidale una bellissima testimonianza don Alessandro voi a Scampia vivete un problema un'ulteriore emergenza la mancanza di copertura dei medici di base come ne parlavamo anche con il prefetto quindi bisognerebbe far capire che a Scampia si può lavorare tranquillamente serenamente un territorio come gli altri quindi anche i medici devono accettare l'incarico per fare medicina di base a Scampia Assolutamente io dico che Scampia ha anche una particolarità che alla fine quando la incontri e quando ci vivi con i suoi sogni e con la sua gioventù ricordiamoci che la maggior parte dei giovani sono nelle periferie della città ti innamori e diventi parte di quella realtà e sogni il bene insieme alla gente che hai incontrato quindi a volte è più una paura di incontrare qualcosa che non conosciamo ma che in realtà è molto più vicino a quello che abbiamo più nel fondo del nostro cuore Ha mai pensato di andare via da Scampia? Ma no io mi sento nel senso io sono a servizio della Chiesa il dono che mi è stato dato è quello di non sentirmi mai inquieto il desiderio di stare da qualche altra parte quello che mi verrà chiesto sicuramente mi troverà sempre e comunque disponibile come lo sono adesso Assessore Trapanese abbiamo visto insomma che quando è andato in onda al servizio lei diceva queste realtà sono veramente utili al territorio bisogna lavorare con le associazioni non profit Assolutamente ormai nessun comune può pensare di farcela da solo è quello che io ho cercato di costruire in questi tre anni la relazione con gli enti e il terzo settore è fondamentale la condivisione soprattutto non i progetti calati dall'alto ma quando arrivano fondi la coprogettazione la coprogrammazione farla con loro al tavolo e capire quello che manca e quello che serve va bene io Bruno Casaretti lo conosco da piccolo ed è una realtà importantissima che è di grande supporto ce ne sono tante altre ed è importante entrare in sintonia e avere anche la come posso dire la dignità di chiedere aiuto come amministratore dire abbiamo bisogno di voi lavoriamo insieme io credo che questo faccia parte poi lei si è formato nel volontariato io mi sono formato nel volontariato vengo dal terzo settore credo che questa sia la soluzione per garantire più servizi e arrivare laddove un'amministrazione non riesce ad arrivare chiudiamo sempre con una speranza dal 2006 l'estato a Scampia ad oggi quanto è cambiato e speriamo qualcosa in meglio ci sarà in maniera straordinaria io sono testimone voglio dire di questo di questo percorso con la presenza di 18 anni lì a Scampia devo dire che alcune cose hanno aiutato la città a vedere questo luogo e questa periferia come un segno della sua crescita della sua evoluzione io penso che anche questa crisi dovuta alla situazione delle vele e fondata sul dolore di alcune famiglie che non dobbiamo dimenticare assolutamente è una grande opportunità per tessere meglio la struttura delle relazioni sociali e per non allontanare più le periferie dal centro allora ringrazio don Alessandro Gargiulo ringrazio l'assessore Trapanese mi raccomando non perdete assolutamente un attimo per costruire questi alloggi e restituirli ai legittimi proprietari noi vi ringraziamo torniamo naturalmente ringraziamo anche il prefetto Michele Di Bari noi torniamo la settimana prossima sempre qui all'ente di ingrandimento parleremo di salute benessere parleremo dei servizi alla persona parleremo di formazione professionale quindi tanti temi continuate a seguirci una piacevole serata a tutti arrivederci buonasera 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 grazie a tutti grazie a tutti